Il manifesto del vino buono, pulito e giusto prende forma e sostanza, con gli esperti del mondo enoico che riempiono di senso ed obiettivi pratici i suoi tre pilastri, sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio, il ruolo sociale ed umano del vignaiolo, dalla necessità di abbattere l'uso dei fungicidi al ruolo del viticoltore, primo attore e primo difensore del paesaggio rurale, passando per la formazione professionale ed il giusto rapporto contrattuale dei dipendenti. A Wine News dalla Slow Wine Fair, organizzata da Bologna Fiere con la direzione artistica di Slow Food, Giancarlo Gariglio, coordinatore internazionale della Slow Wine Coalition. Slow Wine Coalition prende finalmente forma. Il manifesto è stato presentato oramai quasi un anno e mezzo fa. Quali sono i suoi capisaldi all'atto pratico? Il primo è quello della sostenibilità ambientale, che molto spesso viene anche un po' banalizzata. Noi abbiamo cercato di entrare con professori di università, anche provenienti un po' da tutta Europa durante il convegno, proprio entrare maggiormente in quelli che sono gli ambiti forse anche un po' tecnici. E nei punti che ho cercato di riassumere si intravede l'importanza innanzitutto dell'utilizzo giusto delle risorse, quindi soprattutto dell'acqua, l'impronta dell'acqua quando si produce una bottiglia molto importante. L'importanza anche della ricerca scientifica con vitini resistenti. E poi è importante anche sicuramente l'utilizzo accorto dei sistemi che già esistono per eliminare i funghi e le malattie del legno, che diminuiscono molto l'età media delle viti. Quindi tocca sempre ripiantare nuovi vigneti perché invecchiano precocemente. Quindi questo sulla sostenibilità ambientale. Poi la parte invece molto importante sicuramente e per me anche innovativa quella del ruolo della tutela del vignaiolo nella tutela del paesaggio. Come da una parte sentinella dei cambiamenti climatici perché in agricoltura chi è in prima linea è proprio il primo che si accorge dei cambiamenti climatici che sono in atto. Nuove patologie, nuovi insetti, incendi, quindi davvero molteplici problemi che si affacciano sul lavoro del vignaiolo in maniera quotidiana e l'altra parte invece proprio il ruolo di tutela contro i dilavamenti, contro le bombe d'acqua, contro l'erosione del suolo, per cercare di aumentare la fertilità del suolo. Quindi sono tutti compiti che il vignaiolo ha sul paesaggio e sono fondamentali. E infine l'ultimo, ancora meno secondo me messo in luce negli ultimi anni invece il ruolo sociale della cantina. Poi Don Ciotti ha parlato molto meglio, Don Luigi Ciotti. È il ruolo che vede ad esempio un dato molto negativo che il 70% dei contratti agricoli in Italia fatte a stranieri sono praticamente illegali. Questa cosa, come si è detto più volte, come si è sottolineato, se uno vuol bere un vino, divertirsi come giusto che sia, non deve essere sfrutto dello sfruttamento delle persone che ci lavorano. Quindi questo ruolo molto importante. L'altra parte invece è il ruolo sociale e culturale che la cantina può avere sul territorio stesso dove opera. E quindi pensiamo anche, avendo avuto contributi anche in giro per il mondo, anche da Sud America, loro raccontavano di queste riprese delle feste rituali con gli abitanti delle cittadine dove operano. Quindi proprio tutta una ripresa della comunità, del voglio di far comunità che il vino può avere come capofila dell'agricoltura. Questa rivoluzione che deve anche cercare di integrare anche pratiche agricole, prodotti agricoli meno fortunati, perché il vino comunque ha una grande importanza, gira il mondo, è un prodotto che gira il mondo e non tutti i prodotti agricoli hanno questa fortuna. E il vino invece può diventare davvero capofila di questa rivoluzione. Hai parlato giustamente di rivoluzione. In un certo senso è anche una rivoluzione che arriva in un momento storico in cui anche le istituzioni se ne stanno rendendo conto. Abbiamo parlato di caporalato e l'ultima legge è piuttosto recente. Abbiamo parlato ovviamente sempre di biologico, legge approvata da pochissimo in Senato. Abbiamo parlato di sostenibilità e anche qui la legge praticamente è arrivata alle battute finali. È forse il momento migliore per farla questa rivoluzione? Assolutamente le guerre le vedevamo un po' da lontano e forse le nostre coscienze non è neppure così sveglia. Come ha detto secondo me molto bene Carlo Petrini, non deve essere un cambiamento dove ci fustighiamo, deve essere anche un cambiamento fatto come liberazione. Come dice Carlo Petrini, liberazione delle sostanze chimiche, liberazione dalla ciuoli, liberazione per i produttori magari anche dal fatto che ti impongano un gusto che magari non è il tuo. Quindi secondo me è un percorso che dobbiamo fare anche ricordandoci che questa transizione ecologica può liberarci da tante cose che in realtà poi non ci piacciono. Le sirene della guerra e prima del covid attutiscono molto questa questa problematica che invece ahimè purtroppo potrebbe avere conseguenze ancora più gravi di quelle che abbiamo visto con queste ultime grosse problematiche perché comunque il cambio climatico, l'inalzamento dei mari, chi più ha chi ne metta perché comunque sono svariate e anche in agricoltura, in viticoltura si vedono molto facilmente quindi le prossime migrazioni bibliche di popoli che non hanno proprio l'acqua e quindi siamo inondati da altre notizie però questi cambiamenti climatici alla fine è la vera notizia per molti popoli che la vivono e probabilmente anche per noi che la vivremo da vicino nei prossimi anni.